Siamo con Vincenzo Di Giacobbe, presidente del Circo Lanziani 2001 di Nereto, all'avvio della sagra della capra neretese che si svolge nella sede del circolo. Come nasce questa sagra? Quanti anni sono che si svolge? Diciamo dal nuovo fabbricato che abbiamo costruito e che è di nostra proprietà, sono cinque anni, quindi diciamo la quinta edizione in questo fabbricato. Però in precedenza, praticamente noi siamo nati nel 2001 e da allora abbiamo rivalutato questo piatto che per Nereto e per la Val Vibrata è un piatto riconosciuto dalla regione Abruzze, quindi piatto tipico abruzzese e ne siamo fieri. Pertanto noi ogni anno cerchiamo di rivalutarlo e quindi ogni anno cresciamo sempre di più ed è un bel discorso che noi anziani riusciamo a fare perché abbiamo delle cuoche eccezionali di una certa età che ne hanno fatta tante e quindi continuiamo a farlo con una ricetta sempre la stessa e che si migliora ogni anno. Tra l'altro il Circo Lanziani di Nereto è un circolo attivissimo, ha una marea di attività che si sviluppano nel corso di tutto l'anno. Sì, è certo, non è il circolo per anziani che gioca a carte, gioca a carte, abbiamo un campo di bocce, abbiamo un coro folcloristico riconosciuto di interesse nazionale, quindi siamo fieri nel 2011, abbiamo il teatro dialettale e abbiamo un nostro socio che ci compone ogni anno la trama, ci compone questo teatro e noi diventiamo anche attori. Poi balliamo pure, quindi facciamo i mestieri, stiamo in contatto con la Alzi, con i ragazzi che hanno dei problemi, stiamo facendo sartoria, facciamo decoupaggi, facciamo disegni e quindi poi facciamo l'ondare attivo alle scuole, adesso quando arrivano le scuole, le scuole elementari, l'attraversamento delle scuole, dei bambini e quindi poi tante altre attività, facciamo cene, pranzi, sempre ricorrenze che, cioè è attivo, ci muoviamo perché ci dobbiamo muovere perché se no il cervello deve funzionare, se no l'anziano sicuramente si ammala se non da seguito alle sue energie. Certo, giusto e tra l'altro a breve andrete in tournée per così dire a Mosciano Sant'Angelo, giusto? Sì, siamo stati chiamati perché i moscianesi sono entusiasti di questo piatto, ci hanno chiamato sia il sindaco, il vice sindaco e sia il circolo anziani di Mosciano e il 4, 5, 6, 7 settembre andremo lì a fare questa capra e quindi ci fa un piacere e anche un'ora insomma di poter andare anche, di essere chiamati anche in altre località, quindi questo dimostra la bondà del piatto. Sicuramente un circolo attivissimo che dovrebbe essere eseguito di esempio da tante altre realtà. Interessante sapere quando è nato questo circolo anziani e chi è stato il promotore di questa nascita? Sì, dunque il circolo anziani è nel 2001, infatti si chiama Nereto 2001. Il promotore ci siamo impegnati e qualcun altro ci siamo impegnati insieme, ci siamo riusciti a far cercare gli anziani e quindi so far sottoscrivere la volontà di partecipare a questo circolo e in primo momento siamo stati in affitto presso una trattoria di Nereto e il comune pagava l'affitto diciamo. In seguito conoscendo, io ho fatto anche il sindaco e quindi ho avuto anche la possibilità di conoscere qualcuno e siamo riusciti a costruire una sede di 320 metri quadri interamente in legno, il comune ci ha dato il terreno rinnovabile come ripeto 30 anni per 30 anni, quindi diciamo in diritto di superficie e siamo riusciti a costruire questa cosa grazie alla fondazione Tercas che ci ha stanziato 100.000 euro e la regione Abruzzo 50.000 euro e poi la comunità di Nereto, le imprese, chi ci ha regalato il pavimento, chi ci ha lavorato gratis e chi, anche la CPL devo ringraziare che ci ha fatto, la CPL di Santomero che ci ha fatto tutte le strutture, tutti i servizi igienici, elettrici e tutto inizialmente dovevamo solo pagare il materiale senza mano d'opera, dopo andando avanti non abbiamo pagato nemmeno una lira, quindi un grosso discorso e un grosso ringraziamento anche alla CPL che è una ditta privata e tutti i cittadini in rete, le imprese ci hanno dato chi 1.000 euro, chi 1.500, non so, Barzotti ad esempio ci ha dato i pavimenti e quindi noi abbiamo lavorato e ho fatto anche io il manovale e siamo riusciti a fare questa struttura che sicuramente è invidiabile, perché penso che nella regione Abruzzo sicuramente non c'è una sede di proprietà del circolo stesso, degli anziani e penso anche in Italia, pertanto siamo fieri di questa struttura. Sicuramente è una bella realtà vissuta piena dagli anziani e questa nascita è stata condivisa da tutta la cittadinanza perché ognuno ha messo del suo e voi tra l'altro fuori dalla struttura, nell'area avete coltivato l'orto, avete anche un campo di boccia, ma voi ripagate la comunità con tutte le vostre attività che fate per tutto spalmate per tutto l'anno e quindi diciamo che date vita anche a questo paese e quindi è un plauso a questo circolo anziani. Siamo con Franca, Pasqualina e Maria del circolo anziani di Nereto 2001 che sono dietro ai fornelli a preparare questa gustosissima capra la neretese. I segreti ce li volete confidare oppure non si può dire come la realizzate questa ricetta? No, diciamo gli ingredienti che sono la capra di montagna che è proprio quella più saporita che si può trovare, poi cipolla, peperoni e chiodi di garofano e molto vino. Quindi gli ingredienti sono questi, uno semplice, dopo il modo di farla che è lunga. Questo deve bollire quattro ore. Ma prima di metterla a cuocere ci sarà qualcosa da dover fare? Nulla? Una preparazione, cioè pulirla, tagliarla, lavarla bene e poi metterla a cuocere. Perfetto, questa è una ricetta che voi tramandate di generazione in generazione, voi l'avete imparata dalla mamma, dalle nonne, le bisnonne eccetera eccetera. È successo anche con lei signora Pasqualina, giusto? No, non sono, sono un'eneretesa acquisita, però l'ho imparata con loro perché stando qui l'ho imparata con loro. Ogni anno vi dedicata a questa preparazione che tutti attendono gli abitanti di Nereto e non solo perché questa è una sagra molto ricercata e vengono da ogni dove per gustare questa eccezionale ricetta. Siamo con la signora Maria, anche lei ai fornelli per preparare la capra, vengono dappertutto dicevamo per mangiare e per gustare questo piatto, anche ovviamente dal mare nel senso che i turisti, giusto? Sì. E quanti anni sono signora che lei collabora qui, fa parte del circolo diciamo? Quando la signora Franca? Quattro anni, cinque anni. Quindi siete amiche, vi siete coinvolte fra di voi in questa bella realtà che ogni anno vi dà un sacco di soddisfazione, siete molto attivi, ne abbiamo parlato con il vostro presidente e questa va servita con i peperoni rossi, vedo solo rosso. Sì, rossi belli.